Una curiosità, Silva è subentrato a Marcella che ha portato la squadra alla promozione Ha segnato molto ma purtroppo era stata infortunata a lungo Vediamo adesso il rigore Eccolo, Erete Il gol di Ambrosio dopo due primi e diciotto Porta in avanti Rosso-Blu Il fallo sfera l'indietro per Maremani Il tentativo e il gol Da Silva Pronto è partito da Silva Ci prova e la mette dentro Molto bene Indietro per Platero Platero ancora per Cinquini Il tentativo, la sfera rimane lì Là, là, là È un avvoltoio Un rapaccio d'aria Mamma mia Ma E questi signori Sono i campioni Eccolo là Tutti in piedi A sbatter le mani Per il capolavoro Di Fra Il nostro Riccardo Gnata Vediamo Se riuscirà a bissare Ancora ci prova E questa volta Riccardo Ancora lui Fra due avversari Arriva al limite dell'area Poi Là Abbraccio al cielo In inferiorità numerica Si beve tutta Vercelli Poi il tentativo di contropiede sfuma per l'intervento di Maremmani Platero Ambrosio Là, là, là Quelle sono le reti che vogliamo E le azioni che ci fanno La casa Sfra tre maglie giallorosse Ancora per Cinquini Eeeh Mamma mia Eeeh Lì a Cinquini Servito molto bene D'Ambrosio Cinquini E mi sento di dire Tutte reti di pregevole fattura Intanto arriva una sfera Che filtra fra una selva di gambe Ed è da Silva A siglare la doppietta personale L'estero Che va al tiro La recupera il Forte dei Marmi Platero con calma per Mattucini Per Mattucini Dopo il tocco di Ambrosio Che gli restituisce una sfera Pressoché perfetta Cosimo Mattucini All'esodio in questa stagione Prova sul primo palo Niente da fare Recupera la sfera Cinquini Se ne va Per Cosimo Mattucini Che barra Doppio Personale 9 a 2 Grande azione Recupera la sfera Cinquini Se ne va E rete importanti Per giovani Entrato anche Leonardi E intanto c'è la rete Del Da parte di Ballestero Con un tiro da fuori Bravissimo Poi l'appoggio sbagliato Ancora Vertozzi E ancora lui E ancora lui Tre parate Una dietro l'altra Di Leonardo Vertozzi